Giacomo Lepri, prego. Buonasera a tutti. Grazie dell'invito e soprattutto grazie di aver messo intorno allo stesso tavolo tutte queste facce amiche per la vita politica di cui... Sono dagli interventi di alcuni e alcune suggestioni. Quindi c'è bisogno, appunto, come diceva Marta, di un'organizzazione comunitaria che parta dal conoscersi e lavorare sui territori. Il concetto di territorio è fondamentale perché chiaramente implica la capacità, come diceva poco prima Daniele Leppe, di scendere dalla fase della progettazione alla fase della quotidianità e della risoluzione di problemi sotto gli occhi di tutti. Altrimenti, in effetti, riprendendo Pino Galeota, si rischia anche di non avere un linguaggio potabile. Nel senso che è chiaro che se ci si occupa di tematiche lontano dal lavoro e dalla disoccupazione, dall'emergenza abitativa, dalla possibilità di fruire degli spazi pubblici, si inizia ad avere un linguaggio poco potabile. E questo è un rischio in una città assolutamente esigente, in questo caso è assetata di risposte come Roma. Per ciò che mi riguarda, per ciò che ci riguarda con la cooperativa Agricola Coraggio, alcuni di voi lo sanno, ci occupiamo proprio di recupero, di aree agricole pubbliche, per la costruzione di parchi agricoli multifunzionali, quindi dei luoghi che producano cibo ma al contempo diano servizi, diano lavoro, facciano welfare, facciano formazione per ciò che riguarda l'ecosostenibilità e per ciò che riguarda la capacità anche dei bambini di capire da dove viene quello che mangiano. Costruiamo piazze verdi. Ecco, l'idea delle terre pubbliche, di questo famoso 45% aus agricolo in una città come quella di Roma e della possibilità che queste terre pubbliche potrebbero dispiegare, appunto in termini di lavoro e welfare, è sicuramente la possibilità di dare una risposta oggi e quotidiana a tutta una serie di problematiche, lavorando sul concreto e abbiamo visto in questi anni, di vertenze, che questo è stato un linguaggio che le persone hanno potuto toccare, banalmente perché gli si parla, ci si parla, che siamo persone pure noi, di realizzare dei parchi sotto casa, fruibili con il cane o con il figlio, di portare il proprio figlio a cercare un lavoro in agricoltura oggi, quando il lavoro sta decadendo di fronte al Covid, soprattutto quello che è stato il terzo settore finora a Roma, che ha assorbito così tante persone, ma che evidentemente non ha una strategia lunga. Chiaramente si parla, per ciò che riguarda agricoltura, multifunzionalità, giovani, terre pubbliche e territorio, di creare dei presidi che dicono altro, al di là di quello che ho appena elencato, dei presidi che tutelino questo suolo che viene appunto consumato e che non è mai reversibile. Cioè, se ci fate caso, ci sono le statistiche sul consumo di suolo, ci dicono sempre quanto suolo perdiamo, ma ovviamente non ci dicono mai quanto ne guadagniamo perché è impossibile guadagnare terreno agricolo, nel senso che l'area verde si perde perché ci si mette il cemento sopra, ma non si riconverte dal cemento all'area verde, quindi è difficile che quelle statistiche possano migliorare se non, come diceva Vezio De Lucia, non si pone quella appunto linea rossa, diciamo quella linea rossa che non si può superare, che non si può ammarcare. Chiaramente, parlare solo di linea rossa sa di divieto. Quello che noi dobbiamo cercare di fare, e parlo di tutte le vertenze politiche di ogni settore, e riprendo un intervento che era stato fatto inizialmente, ora non ricordo precisamente, è cercare di creare delle vertenze che semplicemente non dicano no, ma che, come dire, producano delle alternative, producano delle alternative che quindi non diventino assistenzialiste. Cioè, dobbiamo cercare di creare delle vertenze che stanno in piedi da sé. Chiaramente, questo invoglierebbe l'amministrazione, dovrebbe invogliere l'amministrazione a sostenere queste esperienze necessariamente. Quindi, la linea rossa ok, ma bisogna capire che cosa fare degli spazi verdi, che cosa fare delle case vuote, che cosa fare di tutto ciò, dei teatri, degli spazi pubblici nelle periferie, e che cosa metterci dentro. E quindi parlare un linguaggio che faccia proposte e che sia votabile. Secondo quello che diceva Cederna, Giulio, parlava della prudenza non iper-specializzare le vertenze. Propongo una soluzione parallela, cioè, è vero, se ci prespecializziamo, appunto, si diventa anche, come dire, poco dialoganti anche tra di noi. Propongo una sorta di sussidiarietà dell'attivismo. Ognuno nel suo campo può fare, e deve fare, quello che gli viene meglio perché conosce il suo territorio. Agricoltura, housing sociale, formazione per i bambini, periferie, e tutto quello che abbiamo appunto sentito finora e che sentiremo dopo. Ognuno nel suo deve fare il proprio meglio, coordinandosi in un ampio respiro, in forum come quello di oggi, come quelli in cui ci troviamo oggi, in maniera tale da poter coordinare le vertenze le une alle altre. Come cooperativa Grigola Coraggio, per esempio, facciamo parte di un altro forum, quello Roma Food Policy. Ci occupiamo appunto di Food Policy a Roma, come strutturarla, e è inevitabile che questo forum coinvolga una serie di associazioni molto diverse da loro, da Terra Onlus, che è un'associazione ecologista, fino a dei comitati di genitori sulle mense scolastiche, perché parlando di filiera del cibo, si va dalla produzione alla sua fruizione. Ecco, questo forum sta funzionando per questo, perché i singoli soggetti fanno attivismo sulla loro vertenza, chiamano all'appello tutti gli altri, non sovrappongono le vertenze, siamo solidali sul particolare. Quindi una visione generale condivisa, ma poi tante singole attività sui territori, per l'appunto, quindi con i piedi per terra, che vengono sostenute, cioè quella del Santa Maria della Pietà, che va avanti, l'idea appunto dell'Università della Terra. Ecco, siamo compatti, siamo solidali sulle singole vertenze. quindi questa sussidiarietà della Terra può essere una buona scappatoia. Grazie, se sei concluso. Grazie tante. Sì. Grazie tante.